ciao a tutti oggi prepareremo la bevanda tipo caffè zero al gusto cappuccino il tempo di preparazione della ricetta e di cinque minuti circa gli ingredienti sono zucchero latte cubetti di ghiaccio caffè congelato a cubetti e latte congelato a cubetti diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per dieci secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte il caffè congelato a cubetti il latte congelato a cubetti e il ghiaccio chiudere con il coperchio senza il misurino ed inserire la spatola ed azionare il bimbi per 40 secondi da velocità 6 a velocità 8 il caffè zero è pronto trasferire in bicchieri e consumare subito bevanda tipo caffè zero gusto cappuccino grazie e alla prossima ricetta ecco Grazie a tutti.